Il piazzale del Castello Magnace è trasformato in showroom per auto di lusso, lo testimonia la foto scattata da una residente in Ortigia di nazionalità francese che aveva chiesto spiegazione ai gestori del chiosco in relazione a tale parcheggio intensivo nel piazzale, ricevendo una risposta di sufficienza, se non di scherno. Alle polemiche per il punto di ristoro si aggiungono quindi oggi quelle relative alle serate nel piazzale accanto al chiosco, all'insegna di automobili esposte, hostes comprese a guisa di evento, promo pubblicitario. Era sabato sera, 29 settembre, denuncia l'avvocato Salvo Salerno del Movimento Quartieri Fuori dal Comune. Vorremmo sapere dalla sovrintendenza se simili eventi rientrano nella sua eccezione di attività culturali ed espositive per le quali aveva accordato l'autorizzazione alla concessione. La responsabile del servizio storico architettonico della sovrintendenza in atti ufficiali iscritti dopo lo scoppio del caso diceva quest'estate, una volta stipulato l'atto concessorio e approvato il progetto di valorizzazione, dopo decenni di uso soltanto stagionale per allestimenti a eventi o come parcheggio, il privato avrebbe realizzato a sospese le opere di valorizzazione come contropartita dall'uso di un bene pubblico. Più di un anno prima la sovrintendenza era stata ancora più severa mettendo nero su bianco sul lato di utilizzazione del 19 giugno 2017 la prescrizione con la quale si escludeva categoricamente l'uso privato di spazi di sosto o parcheggio anche temporaneo di autoveicoli o similari. Alla sovrintendenza faceva eco perfino l'agenzia del demanio che sempre in atti ufficiali ha combinato la decadenza dal gestore per inosservanza della specifica prescrizione della sovrintendenza. Grazie a tutti.